La convenzione è stata firmata dai dirigenti dei centri operativi Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale per la Sicilia Occidentale, per la Sicilia Orientale, Carmine Mosca e Marcello Labella e dal presidente dell'Anci Sicilia Paolo Amenta. Con l'accordo le parti si impegnano ad adottare procedure di intervento e di scambio di informazioni per la tutela delle infrastrutture digitali e delle banche dati gestite dai comuni, ma anche l'erogazione di formazione dedicata ai tecnici e ai dirigenti delle amministrazioni locali che potranno così organizzare e progettare i servizi per i cittadini in maniera più sicura e resiliente. Le amministrazioni locali, spiegati in una nota, si trovano ad affrontare l'evoluzione normativa per il corretto sviluppo economico e sociale del paese in cui operano e l'adozione di misure di sicurezza adeguate per i propri sistemi informativi per prevenire i reati commessi attraverso la rete. In tale ambito, prosegue il documento, la convenzione si ispira al principio di buona amministrazione e collaborazione tra istituzioni al fine di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del sistema paese a vantaggio dell'intera collettività. La Polizia svolge già da tempo in via esclusiva tramite il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni di Roma una rilevante attività di prevenzione e repressione dei crimini informatici di matrice comune, organizzata o terroristica, che hanno per obiettivo le infrastrutture informatizzate di natura critica e di rilevanza nazionale.